Benvenuti e benvenuti a Extrema Razio a questo ultimo appuntamento della terza serie. Ringrazio il centro di calcolo, l'area biblioteca dell'Università di Siena, ringrazio in modo particolare Angelica Di Sauro, Giulia Laversa e Aramarrama per aver reso possibile il collegamento internet e per aver fatto conoscere questa iniziativa sui nostri social network. Questa serie di Extrema Razio è visibile su Webex ed è visibile su YouTube se siete su Webex. Vi invito a tenere spente le telecamere, il tasto della telecamera è sul vostro schermo in basso. Oggi parleremo di Tommaso Labranca, uno dei più originali saggisti e scrittori degli ultimi decenni, morto ancora giovane nell'estate del 2016 e da molti considerato un autore fondamentale per l'interpretazione della cultura popola e per l'interpretazione del presente. Ne parleremo con Claudio Giunta e Gianluigi Simonetti che sono nostri ospiti stasera. Claudio Giunta, saggista e scrittore, ha pubblicato, tra le altre cose, Versi a un destinatario, saggio sulla poesia italiana del Medioevo nel 2002 e ha pubblicato molti interessantissimi personal essay, Paese più stupido del mondo nel 2010, una sterminata domenica nel 2013. Ha pubblicato anche dei libri fotografici di viaggio, se preferite, degli iconotesti insieme a Giovanna Silva, tutta la solitudine che meritate, viaggio in Islanda e il recente Togliatti, uscito qualche mese fa, e anche autore di un romanzo giallo ma bianco, uscito nel 2015. Claudio Giunta collabora stabilmente con il suo 24 ore, con Internazionale, con la rivista Il Mulino, insegna letteratura italiana all'Università di Trento. Gianluigi Simonetti è un B2E di extrema razio, è stato qua già altre volte, ha introdotto un incontro molto bello con Altersi, come ricorderete. Ha scritto il saggio dopo Montale, le occasioni della poesia del Novecento nel 2002, e un libro sulla letteratura italiana contemporanea di cui si è molto discusso negli ultimi anni la letteratura circostante, pubblicato nel 2018. È stato tra i fondatori del sito Le parole e le cose, collabora stabilmente con solo 24 ore e insegna all'Università. dell'Aquila. Comincerei da Claudio Giunta, che ha da poco pubblicato un saggio molto bello, che vi consiglio vivamente di leggere, su Tommaso Labranca, intitolato Le alternative non esistono, che è sia un saggio personale, sia una ricostruzione della vita e dell'opera di Tommaso Labranca. Gli chiederei a Claudio Giunta di presentare Labranca a chi non lo conosce e di spiegare la ragione per la quale ha scritto questo libro e si è interessato alla vita e all'opera di Labranca. Buonasera a tutti, spero mi sentiate, se fossero problemi qualcuno mi interromperà o mi farà un cenno. Dunque, due domande. La prima circa chi era Tommaso Labranca. Tommaso Labranca, per chi non lo conoscesse, è un autore nato nel 62 e morto giovane, come diceva Guido, cioè a 54 anni, nel 2016, a fine agosto 2016, nasce in una famiglia di immigrati a Milano, di estrazione piccolo-borghese proletaria, e ha un percorso di studi un po' anomalo rispetto, credo, a quello di molti che stanno ascoltando, cioè non fa l'università, dopo le medie fa una scuola per interpreti a Milano, dopodiché non fa l'università e comincia a cercare dei lavoretti, soprattutto in campo editoriale. E fa un po' di tutto, scrive, mette a posto, organizza, collabora con De Agostini per una encecopedia della pesca, fa mila lavoretti, come è normale fare a vent'anni. Nel frattempo, però, ha un'attività culturale che è abbastanza di quello che era la cultura diffusa della fine degli anni Ottanta e inizio agli anni Novanta, cioè fa delle fanzine. La più famosa, la più nota, anche quella che ha avuto un pochino più di fortuna, si chiamava Trashware, che esce nei primi anni Novanta. E intanto, in quegli anni, pubblica tre piccolissimi librettini a spese proprie relativi, appunto, alla cultura pop. Qualcuno si accorge di questi librettini, uno di quelli che se ne accorgono è Tiziano Scarpa, che gli dà una mano, insieme ad altri amici, per raggiungere un editore. La Branca non aveva nessun contatto con l'università, con l'editoria, eccetera, quindi deve contare sulla gentilezza di un po' di amici milanesi. Il libretto, o meglio, i tre libretti arrivano a Castelvecchi, che li pubblica in un solo libro, che si chiama Andy Warhol, era un coatto, è del 94, e il libretto ha un certo successo negli ambienti intellettuali, soprattutto lombardi. Da lì in poi, per 5-6 anni, la Branca diventa un po' il divo della cultura milanese, nel senso che scrive altri libri, Estasi del picoreccio l'anno dopo, Cialtrones con Coneinaudio, addirittura nel 98, se non ricordo male, Neoproletariato del 2002, e soprattutto diventa un autore televisivo, cioè riesce a campare bene, a vivere bene dei poventi della scrittura televisiva. Lavora un po' a Telepiù, poi lo chiamano addirittura a Rai 2 con Fazio, e fa l'autore di testi e va anche in video, in una trasmissione che ha avuto molto successo nel 97, e di cui adesso non mi ricordo il nome perché sono una persona anziana, ne farà veramente tra poco. Farà poi un'altra trasmissione, l'ultimo Walzer, sempre con Fazio e Baglioni, che avrà però meno successo. E in quegli anni lì, in quello scorcio degli anni 90, il suo nome circola e diventa una piccola star dell'universo culturale e televisivo. Tutti lo cercano, a un certo punto Fazio dovrebbe passare alla 7, qualcuno se lo ricorderà, e la Branca dovrebbe essere nel suo team di autori. La cosa non va in porto, i rapporti fra Fazio e la Branca si guastano, e negli anni successivi la Branca continua a scrivere e a lavorare in televisione, però la sua stella si appanna un po'. Comincia a pubblicare per case editrici più piccole, torna da Castelvecchi, poi addirittura crea una sua personale casa editrice, 20.090, che è ancora attiva con la collaborazione di Luca Rossi, che adesso è l'unico editore, fa dei piccoli libri molto belli, ma chiaramente che hanno pochissima circolazione. In televisione fa delle cose molto piccole, va in radio, ora lavora un po' per Rayplay, un po' per la radio di solo 24 ore, ma insomma gli ultimi dieci anni della sua vita sono anni anche molto difficili dal punto di vista economico, perché deve cercare di fare qualche soldo con collaborazioni pagate a pezzo per riviste, forse no all'altezza della sua intelligenza e della sua fama, per quanto rispettabilissime come Cronaca Vera, e prima una lunga collaborazione con una rivista importante come film tv. Nel 2016 muore improvvisamente. La seconda domanda, questo è il quadro molto generale della vita di Labranca, quindi un personaggio che sta a cavallo tra cultura scritta e cultura visiva, che nei suoi libri mette insieme queste due esperienze e queste due conoscenze. Perché ho scritto il libro? Perché per me Labranca è stato molto importante, e io avevo un po' più di vent'anni, fra i venti e i venticinque anni, uscivo da un dottorato alla scuola normale, ed ero quindi un giovane nerd intellettuale, e leggere i libri di Labranca, quei libri in quegli anni, da Andy Wall in poi, mi ha molto aiutato, per dire in sintesi, a prendere meno sul serio le cose che sembravano importanti all'università, che a volte non erano affatto serie, e a prendere più sul serio le cose pop che avevano popolato la mia infanzia e adolescenza. E questa doppia azione per me è stata molto importante. Allora, quando è morto, ho pensato che fosse un buon modo di ricordarlo, raccontare la sua vita, e fosse anche un buon modo per raccontare in maniera un po' originale gli ultimi trent'anni di cultura italiana. Questo è in sintesi il che cosa e il perché. Adesso mi verrà forse anche in mente il nome della trasmissione. Benissimo, grazie Claudio. Volevo chiedere a Gianluigi Simonetti, che dialogherà con Claudio Giunta oggi, di cominciare a interpretare il sottotitolo che abbiamo dato a questo incontro, cioè Labranca ieri e oggi. Ponendo la questione in modo un po' pomposo e poco labranchesco, che cosa è vivo secondo te e che cosa è morto di Labranca oggi? Sì, allora cominciamo dalle cose vive, che sono molto più interessanti e anche più numerose. C'è tanto da dire. Io farò breve, naturalmente. L'esperto è Claudio, io sono semplicemente un lettore affezionato di Labranca, però devo dire un lettore tempista, nel senso che effettivamente ho avuto la fortuna di cominciare a leggerlo quando cominciavo a pubblicare, poi l'ho seguito con questa sua parabola che Claudio ha descritto. E la cosa che mi sembra viva soprattutto di Labranca è la cosa che mi sembrava viva già in diretta dalla sua prima apparizione, con i primi due libri di Castelvecchi in particolare, Andy Waller, Anquatto e Estasi del Pecoreccio. E cioè la cosa che si notava subito era questo suo metodo, questo suo approccio alla cultura pop, molto particolare, perché era dal tempo stesso molto serio, molto rigoroso, molto analitico e intelligente, però mai serioso, mai ammuffito, mai accademico. In questo senso, come diceva Claudio, era un ottimo antidote, soprattutto per chi invece stava nell'accademia. La particolarità nasceva dal fatto che questo approccio non c'era e non c'è, mi sembra, tuttora tanto nella cultura italiana. Cioè gli intellettuali italiani di solito schifano a prescindere il mondo del pop per un vizio di fondo. Claudio parla di sindrome da liceo classico nel libro, no? Senso di colpa, piccolo borghese, entrambe le cose. Quindi hanno un atteggiamento molto difficile nei confronti della cultura pop e soprattutto lo avevano negli anni 90, quando apparivano le prime cose di Labranca. Oppure, e questa è una cosa che si è diffusa di più col tempo, l'apprezzano apprezzano il mondo pop a prescindere. Un po' anche qui per partito preso, quindi glorificando, riscoprendo, come si dice, a volte delle cose orrende, con un atteggiamento un po' da idolatri, no? E allora c'erano e ci sono, mi sembrano, questi due atteggiamenti opposti. Cioè un eccessivo senso di colpa e quindi un atteggiamento difensivo, soprattutto da parte dell'accademia, oppure una feticizzazione eccessiva, aggressiva, che fa passare poi cose mediocre o pessima. Oppure, terza via, molto diffusa anche questa, mescolare l'alto e il basso, usando la cultura alta per nobilitare la cultura bassa e la cultura bassa per ironizzare la cultura alta. Quindi intellettualizzando il pop, anche troppo, e poppizzando anche troppo l'arte di maggiore ambizione formale. E questa è una cosa che soprattutto invece nell'università si è usata negli anni. L'università è il posto in cui nessuno vuole passare per l'ingenuo e questa strategia sembra molto sofisticata. Ecco, la branca, secondo me, ha sempre fatto una cosa diversa, queste tre. Del resto lui non ha fatto il liceo classico, non ha fatto nemmeno l'università. Ed è molto importante questo, secondo me. Nessun tipo di snobismo, né snobismo dall'alto, né snobismo dal basso, non ha mai mescolato nulla, non ha mai feticizzato, non ha mai disprezzato. Ha provato sempre a confrontarsi con il mondo della cultura pop o trash addirittura agli inizi, distinguendo e giudicando le opere, come si dice un po' pomposamente, appunto, juxta propria principia. Cioè, secondo la loro logica interna, secondo le loro legole. E quindi la dose larissima di la branca, cioè non la confusione di chi mette tutto sullo stesso piano in calderone antigerarchico, ma l'intelligenza di chi invece fissa le gerarchie, distingue fra bello e brutto. E questo è un'epoca in cui, in questi 20-30 anni, in cui le gerarchie siano sempre più sfaldate, per stanchezza della forma, per confusione, per incapacità di organizzare. Quindi è vivo, secondo me, questo approccio di la branca, ma resta minoritario. Anche perché è più difficile, richiede più competenza, richiede più familiarità, richiede anche più amore per le cose pop che si studiano. E poi anche, credo, perché è meno spettacolare, è meno adatto alla comunicazione di massa, perché la comunicazione di massa invece preferisce opinioni forti, pochi argomenti, poche analisi e ama la confusione e ama l'assenza di gerarchie. Faccio un esempio, così per dare un senso più concreto di quello che si provano a dire. Mi è capitato di pensare alla branca qualche mese fa, prima che uscisse, poco prima che uscisse i libri di Claudio, c'era stato questo dialogo in rete tra Michela Muggia e Chiara Valerio, una serie di incontri, di dialoghi tra di loro, in cui a un certo punto, in uno di questi, hanno finito a parlare proprio di Battiato, Franco Battiato. E Battiato, come sa chi conosce la branca, è un cavallo di battaglia di la branca, ne ha parlato spesso. Lo schema del dialogo prevedeva un contraddittorio tra Muggia e Valerio, e quindi anche in questo caso su Battiato le posizioni erano opposte. Chiara Valerio che parlava molto di Battiato, un genio, un intellettuale consintetizzatore, e Michela Muggia che parlava male di Battiato, è un finto intellettuale, le canzoni non si capiscono, eccetera. Allora ho pensato alla branca, ci sono alcune pagine del suo libro in Audi, che è stato ricordato prima, c'è altre non escono, in cui la branca analizza alcune canzoni, una in particolare di Battiato. Ora, dentro nel merito di che cosa hanno detto i tre, Valerio, Muggia, la branca su Battiato, non importa adesso il loro giudizio su Battiato, mi compieva soprattutto il metodo, il come ne parlava. Da una parte Muggia e Valerio c'era una forte polarizzazione del giudizio, che era anche intercambiabile, perché poi quando ci sono state le polemiche sui giudizi più negativi della Muggia su Battiato, la Muggia ha detto no, ma a me in realtà piace Battiato, ci troviamo divisi i compiti così per polarizzarli appunto. È già questo, perché io faccio la branca, insomma, a vedere la branca così elastico nel dire delle cose che poi veramente non pensa. Però soprattutto c'era questa forte polarizzazione per cui appunto opinioni forti, giudizi secchi, chiari, senza sfumature, anche non particolarmente informati in realtà su Battiato, soprattutto su Versante Mondo, però ottimi per provocare reazioni, per suscitare discussioni, polemiche, cosa che poi puntualmente è successo. Invece cosa faceva la branca? La branca diceva, non c'è, Battiato non è cattivo o buono, c'è, lo dice un cialtronesco, un la branca cialtrone e c'è un Battiato cialtrone e c'è un Battiato non cialtrone. Bisogna distinguere all'interno della sua opera la parte cialtronica e la parte non cialtronica. E non lo diceva soltanto, lo dimostrava, come una nota bella di Prospettiva Agneschi, Battiato cialtrone, secondo la branca, e una di Goutet compare di Battiato, che invece secondo la branca era il Battiato non cialtrone. Ecco, per concludere, oggi il pop mi sembra spesso il pretesto a livello intellettuale per parlare di cose che tutti credono di conoscere nel modo più schematico, più polarizzato, più ideologico possibile. Quindi si spara grossa sperando che poi le cose rimbombino come opinioni e scatenino altre opinioni. E dice, la branca faceva il contrario, conosceva molto la cultura pop, l'amava in modo profondo, viscerale, non aveva una strategia comunicativa, analizzava, distingueva. E secondo me è molto importante la differenza tra un'opinione e un'analisi. La branca ha sempre fatto delle analisi. Il problema forse è che le sue analisi erano fin troppo rigorose, fin troppo sottili, fin troppo sofisticate per rimbombare, per provocare reazioni, per entrare nel circuito della comunicazione. E per questo forse non ha funzionato nella comunicazione di massa. Per questo a un certo punto è stato espulso dalla comunicazione di massa o lui stesso in qualche misura si è espulso. Grazie Gigi di aver avviato il dibattito su questi temi. Una delle cose che accomuna Claudio Giunta, Gianluigi Simonetti e chi vi parla è una allargata ma sostanziale comunanza generazionale. E un'esperienza che ci ha unito, cioè il fatto di essere cresciuti fra due culture, le culture di cui parlava Gianluigi Simonetti che sono al centro della riflessione della branca. Cioè da un lato la cultura pop che abbiamo trovato, è stata la nostra prima forma di arte, la nostra prima forma di riflessione sul mondo anche. E dall'altro la cultura che abbiamo imparato a scuola. Ed essendo tutti e tre prodotti delle scuole di Stato abbiamo avuto ad un certo momento il problema di conciliare questi due elementi della nostra infanzia, adolescenza e giovinezza e del nostro modo di vedere le cose. La branca portava uno sguardo sicuramente originale anche perché di tutte le categorie che erano disponibili per l'analisi della società di massa, società dei consumi, cultura pop, modernizzazione, seconda modernizzazione culturale italiana, quella del semplificando delle televisioni private e del Berlusconi. Di tutte queste categorie la branca faceva tabula rasa e ricominciava da zero. Le volevo chiedere a Claudio come la branca articolava la sua riflessione, la sua analisi della modernizzazione culturale, dei consumi del pop e della televisione. Ma dunque intanto devo fare ammenda in 50, mi hanno scritto dei messaggi per dirmi se non mi vergognavo a non ricordarmi Anima Mia. Faccio scritto un capitolo quindi devo vergognarmi in effetti. Il programma era Anima Mia, 97, la branca fra l'altro conosce Orietta Berti con cui rimane amico per molti anni, eccetera. Esce anche un piccolo libro a fine anno a firma di Fazio che si chiama Anima Mia. Prima di rispondere alla domanda due cose su quello che diceva Gigi. Perché non ha funzionato, effettivamente non ha funzionato, non è entrato nel mainstream, la branca. Io credo che la cosa sia legata molto a quello che diceva Gigi prima, cioè al suo avere una formazione culturale diversa dalla nostra. Cioè la mia impressione che appunto in linea con quello che Gigi diceva sulla polarizzazione, in Italia funzionano o le cialtronate alla Dagospia, quelle quindi prive di bibliografia, di qualsiasi bibliografia, oppure le cose professorali alla Umberto Eco quando va bene, alla XYZ quando va molto male, insomma in genere va molto male. Quindi il fatto che lui fosse un saggista che non aveva, come dire, passato degli anni nell'accademia e che non la faceva delle note in cui citava Baudrill, argoniamo, questo lo ha sicuramente danneggiato. Un altro danno è stato dare ai libri che scriveva dei titoli così leggeri, allegri, come dico nell'introduzione, come diceva già Flaiano, insomma come dicono tutti quelli che conoscono un po' questo paese, l'Italia e gli italiani sono un popolo che tende a prendersi sul serio anche quando serio non è e per essere preso sul serio occorre presentarsi come seri e se uno si presenta come leggero, come ironico, con titoli come Chaltronescom, oppure Andy Waller, un coatto, o Estasi del pecoreccio, la cosa non aiuta. Quindi da un lato era troppo serio per l'immondizia, per il pettegolezzo e dall'altro era troppo allegro per i professori. E questo mondo di mezzo in Italia non era e non è, forse un po' pochino di più, non era molto popolato a quel tempo. Nel libro cerco di fare, li metto accanto qualcosa, ma quel qualcosa in genere è anglosassone, forse nel paese anglosassone avrebbe avuto un pochino più di ossigeno in quegli anni la branca, in Italia direi di no. Uno pensa, ecco, mi viene in mente Beniamino Placido in quegli anni che faceva un discorso sul pop da professore di letteratura americana e in un modo che era intelligente e simpatico, ma certamente molto diverso da quello di la branca. Per venire alla questione che sollevava Guido, ha due cose, uno sull'articolazione del discorso e l'altro sul problema della modernizzazione che ha toccato anche Gigi. Allora, per quanto riguarda l'articolazione del discorso, la cosa interessante, la mia impressione, io non sono un contemporaneista, quindi non ho un repertorio di letture vastissimo alle spalle per quanto riguarda l'ultimo mezzo secolo, ma è molto originale la forma del discorso di la branca, cioè io l'ho chiamato, credo, saggio romanzato, nel senso che la branca non ha le spalle abbastanza larghe per scrivere un saggio accademico, ne vuole, e allora si inventa dei personaggi ai quali fa indossare le idee che lui pensa. Quindi Neoproletariato, Estasi del Pecoreccio, lo stesso piccolo isolazionista, sono libri di impianto narrativo, ma che di narrativo hanno molto poco, i personaggi sono evanescenti, il plot è molto debole e quello che viene fuori, quello che emerge, quello che conta, sono le idee. Però non voglio minimamente coniare una nuova categoria narratologica o teorico-letteraria, perché sapete quanto io sia alieno da quel tipo di discorsi, però certamente è una forma, a me non mi pare, una forma, non dico unica, ma certamente molto originale nel panorama della letteratura contemporanea, voi potete dire meglio di me. Raccontare una storia per dimostrare qualcosa, per portare avanti delle idee, per formulare delle idee. Anche ai Ducci, il romanzetto sulla famiglia romena, è un piccolo saggio sull'immigrazione con molte osservazioni interessanti, narrativamente molto spoglio, perché così era la branca. Quindi quanto all'articolazione del discorso, secondo me c'è da riflettere, non dico studiare, però c'è da riflettere sulla peculiare così grana narrativo-saggistica che la branca riesce a combinare. Quanto al cosa, cioè a qual è secondo me, qual è il problema che io ho messo al centro di un paio di capitoli del libro, diceva bene Guido è quello della modernizzazione. Allora nel libro parto da un'osservazione, credo di Shash, però alla fine poi uno, così come si dimentica i titoli delle trasmissioni, finisce per attribuire delle frasi a gente che non le ha mai dette, ma insomma diciamo Shash, diceva che la cosa più interessante è riflettere su come gli intellettuali hanno attraversato il fascismo. Il fascismo era lì, cioè per vent'anni era una cosa che non potevi evitare, quindi tutti quanti hanno preso posizione. E la modernizzazione per le generazioni successive, quelli nati poco prima della guerra o poco dopo la guerra, la modernizzazione è la cosa da cui non si può distogliere lo sguardo e soprattutto il lato più negativo e triviale della modernizzazione, cioè il consumismo. Allora questo è, non dirò il problema, ma uno dei problemi di Labranca, cioè la cosa che lo interessa, una delle cose che lo interessano di più. E interessa di più anche a me, perché appartengo, come diceva Guido appunto, a quella generazione che queste cose le ha avute negli occhi, insomma. Labranca appartiene, nel 62 appartiene alla generazione che per prima probabilmente le ha avute negli occhi queste cose. E quindi è anche il primo che ci riflette in questo modo originale. Allora, semplificando molto, diciamo che, credo che di usare la frase, che gli intellettuali in genere non hanno gradito, per usare un effemismo, cioè diciamo che l'intellettualità della seconda novecento ha nel consumismo, nella modernizzazione sfrenata, nella modernizzazione sbagliata, uno dei suoi topo, insomma, dei suoi punti di riflessione più ovvi, più ripetuti, insomma, da Zolla a Pasolini, eccetera, eccetera. Ed è una di quelle cose che mette d'accordo un po' tutti, destra e sinistra, insomma, cioè qualcosa è andato storto nella storia di questo paese, dell'Europa e dell'Occidente, la modernizzazione sì ma non così, sviluppo senza progresso, eccetera, eccetera. Ora Labranca, che appunto non aveva una formazione universitaria, quindi tutte queste idee un po' ricevute, non le aveva ricevute, ha un occhio un pochino più libero e non è sciocco, naturalmente, quindi vede i guasti della modernizzazione, li vede in maniera molto originale e intelligente, subito direi all'inizio, già negli anni 90, quando ha 35 anni, nei libri che citava prima Gigi, cioè Estasi, il pecoreccio, nel proletariato, eccetera. Però vede anche il bello, l'interessante, il degno di nota della modernizzazione e del consumismo. E quindi, come diceva Gigi, appunto, sceglie non di piangere o di condannare o di indignarsi, cosa molto rara in questo paese di indignati, ma di analizzare, di riflettere sulle cose. E quindi smonta le cose, cioè vede come sono fatte dentro. Non fa come Eco, che costruisce delle geneologie concettuali o storiche. Prende le cose e le smonta. Cioè fa un discorso più che da sociologo, da filosofo, da etnografo. E dentro le cose le smonta e vede come funzionano. Nella fine del libro cito una cosa interessante, cioè nei suoi diari che ho trovato a un certo punto, dice a 30 anni, questa notte ho registrato, ho comprato un registratore e ho registrato quattro ore di Rete A. Rete A era la televisione delle televendite, del porno casereccio che molto di noi ricordano, insomma. E lui fa una cosa da scienziato sociale, un po' virge, probabilmente, ma insomma sensatissima, cioè senza spogliare bibliografia, Rete A la osserva e vede quello che c'è dentro. E questo è il suo modo di articolare il discorso, cioè un modo da osservatore partecipante, di uno che è dentro le cose, non ha pregiudizi ideologici, questa è un'altra cosa su cui bisogna forse dire qualcosa, infatti la dico subito se volete, e quindi ha un occhio che nessuno della sua generazione probabilmente aveva. E questo è l'interesse delle sue pagine, la sua originalità. E sull'ideologia anche questo va aggiunto, cioè non ha pregiudizi, cioè Guido chiedeva a Gigi prima cosa è rimasto e cosa non è più attuale. A me sembra molto attuale la sua mancanza di pregiudizi, il suo arrivare davanti alle cose senza sapere prima cosa dovrà dire. E questo è forse l'unico buon effetto di non avere avuto un'educazione universitaria così obbligante come quella che tanti di noi hanno. Grazie, volevo partire da uno dei punti su cui riflettevi, cioè l'originalità di metodo, di sguardo, di cominciamento della riflessione di Labranca, per chiedere a Gigi se devo entrare nel dettaglio del metodo Labranca, nel modo in cui Labranca si avvicina ai prodotti o alle opere della cultura dei consumi della società che usando la categoria di debò che Labranca non avrebbe mai usato neanche sotto tortura, potremmo chiamare la società dello spettacolo. Volevo da Gigi una introduzione al metodo Labranca. Sì, beh, prima dicevamo, Labranca produceva soprattutto analisi, non opinioni, e questa è una cosa originale, una cosa viva secondo me del suo metodo. Allora forse per un po' di come appunto lavorava Labranca, cioè di come analizzava i prodotti proprio in concreto, possiamo essere Labranchiani fino in fondo e parlarne il meno genericamente possibile. Secondo me la sua caratteristica era una particolare abilità nel trovare il non detto del prodotto estetico pop o trash, insomma, di consumo, di massa, nel vedere il rovescio dell'ideologia, cioè non l'ideologia esplicita, che poi è la cosa che in genere la maggior parte dei simiologi o anche semplicemente degli intellettuali fanno col pop, ma rovesciare l'ideologia e vedere quello che il testo non dice esplicitamente, che è una cosa che a me piace molto in critica letteraria, in critica della letteratura, è che lui faceva molto bene anche su opere non scritte, non letterarie. Quindi molto abile nel trovare il non detto del pop, il ritorno del rimosso, se volete, del represso, l'incoscio politico ha anche molto, secondo me. E molte delle sue analisi sul trash, per esempio, sono così, delle sue prime analisi, dei suoi primi libri. Io ricordo che rimasi molto colpito, e penso di poter dire che mi ha influenzato parecchio, non so se ne sono stato all'altezza, però ho cercato di assorbire quel tipo di analisi. Io rimasi molto colpito dalle pagine che in Estaci del Pecoreccio, la branca, dedicava all'analisi della canzone degli 883, un mito. Ora, non so se possiamo, se possiamo, perché insomma avevo preparato una parte delle cose insomma di la branca, la branca scrive su quella canzone, naturalmente facciamo una sintesi, provo anche magari a farvi sentire soltanto dei frammenti, il pezzo lo conoscerete, immagino, leggiamo soltanto l'inizio della parte centrale e sentiamo soltanto l'inizio della parte centrale per andare al succo. Questa è la versione remix dell'originale, noi non sentiremo l'originale perché saremo filologi e labranchiani e sentiremo la versione, il remix di Sei un mito che preferiva in realtà la branca, e cioè il remix di Stefano Secchi. Per il momento finiamoci qui. La branca nota che il cuore di questa canzone è nella differenza di classe tra lui e lei, lui va a prenderla sotto casa, lei scende, escono e passano una serata insieme, una serata e una nottata insieme. La differenza di classe non è un argomento esplicito di Sei un mito, noi sappiamo di lei che è un mito, come tutti i miti è pieno di assoluto, di lei intravediamo soltanto il body e il balconcino, sappiamo perché lui ci dice che lei sta in un'altra dimensione della realtà, una dimensione superiore, è bellissima, è intelligentissima ed è pure spatica. Invece lui è di estrazione popolare o piccolo borghese perché ha l'albermanicic in macchina, ha cambiato i tappetini, l'ha comprato i nuovi per l'appuntamento, ed è arrivato in anticipo all'appuntamento. Come nota la branca, se Grace Jones arriva con tre ore di ritardo a un appuntamento, mentre Fantozzi quando va al casino di Monte Carlo col Duca Conte e Semenzana arriva in stazionale quattro anche se il treno parte. Quindi c'è questa differenza. Ma non è solo questo, la branca nota che il dettaglio veramente commovente del pezzo è che lui appunto non si accorge, quello con l'albermanicic, non si accorge della differenza di classe. E lo possiamo dedurre da un passo successivo. Ecco, ecco il segnale, qui possiamo leggere direttamente la branca, ecco il segnale della differenza di classe che pur venendo costantemente migata continua a vivere sotto traccia. Mentre i genitori dei proletari, di noi proletari, concedetemi, non escono mai, o se lo fanno si spostano su raggi brevissimi, il supermercato, il bar, l'appartamento dei vicini, e passano le loro serate dormendo o guardando la tv. I genitori di lei, a questo punto inconfuttabilmente ricchi, hanno una vita moderna più intensa. Dove saranno andati la sera degli eventi qui narrati? A teatro forse? A cena, con colleghi dirigenti, oppure, molto probabilmente siamo durante un fine settimana, nella loro villa di Finmornasci, in italiano Finomornasco, provincia di Como, o in Liguria. Fondamentale è il dettaglio della bottiglia per la branca, no? Io mi fermo a prendere una bottiglia perché voglio festeggiare questa figata con te. La bottiglia, scrive la branca, è un altro segnale primario di come la differenza di classe, nonostante l'apparenza e l'ingenua credenza dell'icona 883, dell'883, la differenza di classe continua a prosperare. Era necessaria la bottiglia? No. Se lui non fosse appartenuto a una classe sociale inferiore a quella di lei, avrebbe saputo che nel bar di casa di lei, lo aspettavano brand di vecchissima riserva, champagne annata e raffinatissime chartreuse. Ma l'icona 883, Memore del proprio sguardito armaglietto dei liquori, che comprende due sole bottiglie, una smezzata di vicino e una intatta di amaretto di caronno, poi approfondiamo questa cosa dell'amaretto di caronno, però adesso teniamo il filo. Memore del proprio sguardito armaglietto dei liquori, crede di far evitare a lei la figura che avrebbe fatto senza dubbio lui in un caso del genere. Acquista dunque di volata in un bar notturno a un prezzo di furto una bottiglia di Santino con tappo in plastica. La bottiglia verrà aperta, ma non consumata. Persino i filippini, il mattino dopo, i filippini di lei naturalmente, ci asserranno dal toccata. Chiudiamo con quella che è un po' la rivelazione finale di Sei un mito. E riprendiamo la branca. Ecco il momento dell'inganno. Lui è sicuro di aver trovato la tipa cui piace divertirsi e che volentieri si presta a ricevere l'estremo oltraggio sai avanzare richieste matrimoniali, incredibili abbracciati noi due, eccetera. Ma l'icona 883, limitato com'è nell'analisi dei casi della vita, e abituato a scivolare, peraltro felicemente, bello questo inciso secondo me, peraltro felicemente, abituato a scivolare peraltro felicemente sullo specchio delle apparenze, non si pone la domanda cruciale. Perché non mi chiede di sposarla? Il perché è semplice. Lei è ricca, bella e raffinata, promessa da tempo al figlio di un industriale, spesso in viaggio con il lavoro, e inganna il tempo con rapide cavalcate sul divano di casa, preferendo come partner ex compagni di classe scolastica, sempre inferiori come classe sociale. Figuriamo che questa va a implorare sposa mia l'icona 883, che deve pagare ancora le rate dell'auto e che lavora come apprendista per un'impresa di impianti telefonici. Ecco, poi c'è la questione delle note. Spesso, non so se Claudio è d'accordo, sono molto belle le note di Labranca, spesso le cose più belle anche letterariamente sono proprio nelle note. E qui, in questa nota che riguardava l'amaretto di Caronno, troviamo un altro discorso che si potrebbe ampliare sulla teoria del trash di Labranca. Leggiamo allora la nota. I cosmologi danno per altamente probabile l'esistenza nell'universo dell'amaretto di Caronno, o comunque la sua comparsa a breve scadenza. A conforto della loro teoria, gli studi recano la potenza della doppia approssimazione nominale e geografica. Caronno per Tusella è un comune lombardo che si trova a solo 5 km dal più celebre Saronno, amaretto di Saronno. Tale potenza approssimativa non può essere trattenuta troppo a lungo nell'universo dell'inespresso, dovrà necessariamente esplodere in qualche supermercato. E già qui si intravede la teoria del trash come emulazione fallita che Labranca aveva sviluppato e svilupperà anche in Estasi e per cui ce l'aveva già sviluppata in Andy Warwick. Io personalmente, adesso chiudo, dopo aver letto queste pagine, contattai un mio amico leopardista, molto bravo, Francesco De Rosa, e decidemmo di scrivere qualcosa sui primi 4 dischi degli otto tre, sui testi. No, proprio con questo metodo. Ma a parte questo ho cercato poi, io, penso non solo io, di fare anche sui testi letterari qualcosa del genere. E credo che funzioni bene, soprattutto sui testi letterari di livello medio e basso, no? Tirare fuori quello che l'autore stesso dice senza saperlo e senza sapere di dirlo. Tutto questo mi sembra una bella lezione di metodo, almeno dal mio punto di vista. Grazie, grazie per averci fatto leggere queste pagine indimenticabili sotto tanti punti di vista. Sarà contenta anche Emanuela Carbet, che ha reso possibile la proiezione di tutto questo e che ha studiato a Pavia, luogo natale di Max Pezzali, immortalata nel distico, nel verso, due discoteche e 106 farmacie. Lascio adesso la parola a Claudio per parlare sia del metodo di Labranca, di come lavorava Labranca, sia anche della terminologia di Labranca. Labranca ha inventato una serie di parole, alcune efficaci, altre forse meno efficaci, che però fanno parte del suo stile e hanno contrassegnato la sua opera. Trash, Cialtrone, Cialtronese, neoproletariato. Ecco, volevo sentirti parlare di questo lessico labranchiano, oltre che del metodo di Labranca. Sì, avrei molte cose da dire su ciò che diceva Gigli e su quel brano e su Labranca interprete del pop. Però ci siamo stati dei ruoli stasera e quindi magari dopo. Perché lì, in quel testo, in quell'analisi, Labranca fa anche una cosa che noi critici letterari facciamo spesso, cioè sovrainterprete. Però in maniera talmente elegante che uno dice, accidenti, accetto tutto a questo punto, perché è talmente intelligente che ti do ragione anche quando superi un po' la linea del giusto e del filologico. Aggiungo solo questo, che non so se in quella stessa pagina Labranca parlava anche di Alberto Sordi, perché c'è un confronto tra il proletario che si illude di aver conquistato la figlia della borghesia senza percepire le differenze di classe, quindi senza fare nessuno sforzo per colmarle. E c'è invece Alberto Sordi che nella lettura di Labranca Labranca non è affatto il reazionario che dipinge Moretti in una famosa citazione, ve lo meritate Alberto Sordi, cioè il reazionario che vuole che tutte le cose stiano allo stesso posto, eccetera, quello fosse il Sordi uomo a una certa età. No, il Sordi giovane dei film degli anni 50 e inizio 60 è, dice Labranca, un suhende, uno che cerca, uno che cerca di cambiare classe sociale. E se pensate ai film di Sordi quegli anni, è tipicamente il proletario piccolo borghese che cerca di fare qualcosa, di cambiare classe sociale perché percepisce molto chiaramente le differenze di classe in quasi tutti i film. Naturalmente è fastidioso, è ributtante perché l'arrampicatore sociale, chi vuole cambiare, chi vuole migliorare, chi vuole guadagnare, è ripugnante. Non è consolatorio come il nostro ragazzo con l'arbre magique placido e sciocco nella sua automobile. Quindi in quella pagina o in pagine vicine Labranca opponeva a questo coglione, chiedo scusa se dico questa parola, una persona invece interessante per quanto ripugnante come Alberto Sordi nei film degli anni 50 e 60. Labranca, fra le altre cose, è un creatore di terminologia. Anche qui ha una libertà proprio così terminologica, una fantasia libera anche, credo, perché non ha quelle contrainti che noi abbiamo, cioè che prima di creare una parola nuova, un nuovo concetto, una nuova gabbia, ci guardiamo intorno e cerchiamo nella bibliografia sociologica o filosofica il conforto del parere di grandi pensatori che possono aver pensato meglio le cose che noi stiamo pensando e aver appiccicato delle etichette alle cose che pensiamo. Labranca queste ubbie non le aveva, sempre per la questione che dicevo prima, cioè di un percorso scolastico atipico. E quindi liberamente, quando è all'inizio, crea una criminologia molto colorata, che devo dire non è la cosa che a me sembra più interessante della sua produzione saggistica e però è divertente e va, come dire, rispettata e salvata, a volte, secondo me, fissa bene il suo oggetto, a volte un po' meno, credo che Gigi sia d'accordo, la prima etichetta che tira fuori è i giovani salmoni del trash nel primo libretto che pubblica le sue spese che non è particolarmente felice. E però poi ne in anella alcune molto interessanti, trash è la più famosa, quella che io preferisco è Barocco-Brianzolo, Cialtrone sicuramente, Trashon e un'altra etichetta che non ricordo sul sul trash ritardato, cioè sull'imitazione fuori tempo massimo e altre del genere. Allora, per essere molto sintetici, e per vero a chi queste cose non le ha lette, il trash non è affatto l'immondizia o il triviale in vacanza su Marte con Boldi e De Sica non è trash nel senso labranchiano, è una commediaccia fatta così con pochi soldi per tirar su tanti soldi, insomma, ma non è il senso che la branca dava di trash. Il senso che la branca dava di trash era l'imitazione fallita, cioè qualcuno che non ha il capitale simbolico per fare una cosa di particolare raffinatezza e qualità, prova lo stesso a farla e tuttavia fallisce e questo fallimento rappresenta, costituisce un oggetto estetico che merita di essere analizzato e merita anche di essere apprezzato e amato. Poniamo Walter Carbone che era un presentatore televisivo degli anni 90 su Rete A imita Pippo Baudo ma fallisce nel tentativo. Emilio Fede non ha i mezzi della CNN però si comporta come un Anchorman della CNN con gli inviati, i gesti, eccetera, eccetera. Trash, fallisce il tentativo e crea un oggetto diverso dagli altri. Oggi si potrebbero fare le stesse, io nel libro faccio un po' di esempi su quello che è trash oggi, non voglio annoiare su questo. E questa è un'etichetta che spiega in effetti alcuni degli oggetti che hanno riempito la nostra vita per decenni. Cioè non è immondizia, non è triviale, non è semplicemente roba brutta. È il tentativo di adeguarsi a un modello artistico, culturale che non è alla nostra portata. E li tiro fuori poi nel libro una serie di possibili punti d'appoggio, io, non la branca, filosofici o sociologici che forse possono essere interessanti. Perché il concetto sotto altri nomi, altre, avevano già trovato e descritto. Io sono particolarmente commosso dal barocco Brianzolo che trovo meraviglioso e che ha una sua interessante definizione che adesso leggo. Il barocco Brianzolo, cito, è l'applicazione esasperata ai massimi livelli di un'idea di uno stile. Il barocco Brianzolo non conosce fallimenti, lo stile vincente, lo stile dei trionfatori. Il barocco Brianzolo è un po' il blasone estetico di chi strafà, di chi ci crede troppo, di quelli che non sono mai sfiorati dall'idea di essere non dei geni ma degli imbecilli. La branca fa l'esempio del gruppo industriale Lombardoni quando deve creare un gigantesco supermarket, non lo chiama ipermarket super market ma lo chiama gross market mettendo insieme una parola inglese e poi una parola che è come dire suona padana a mille miglia gross ale gross il gross market e allora nella pagina in cui commento questa bella etichetta dico anche che il barocco Brianzolo si può applicare a molti prodotti dell'industria culturale odierne insomma cioè lo scrittore che vuole fare grande e poi però insomma fallisce miseramente senza rendersene conto il trombone l'intellettuale trombone ed è piena l'Italia ecco quell'etichetta funziona perfettamente e poi ci sono tante derivazioni molto interessanti che la branca guarnisce sempre di esempi molto pertinenti poniamo la pellicceria Annabella fa pubblicità in cui allude continuamente a Pretty Woman so che Pretty Woman era uscito sei anni prima quindi c'è questo ritardamento dovuto alle periferie nella quale si trova la pellicceria Annabella rispetto a Julia Roberts e Hollywood quanto al cialtrone il cialtrone che dà un mezzotitolo anche al libro in Audi che credo fosse stato scelto in realtà dai redattori di stile libero cialtrone è proprio l'operazione cialtronesca è proprio l'operazione a cui ha l'uva Gigi prima cioè il tentativo di mescolare l'alto e il basso che è un tipico riflesso da intellettuale che come noi vive tra alto e basso tra Proust e una parte e le canzonette pop dall'altra questo tentativo di mescidazione di ibridazione non riesce quasi mai è sempre snobistico perché lo fa l'intellettuale e cialtronesco è proprio l'etichetta che la branca appone in maniera molto pertinente a questo insopportabile esercizio però ecco non so non tengo particolarmente poi alla terminologia trovo che il suo modo di lavorare sia più interessante quando prima della della terminologia ecco la cosa ci cui credo che io e Gigi siamo perfettamente d'accordo che la cosa interessante della branca è che arriva la terminologia dopo cioè la terminologia corona un lavoro di analisi sul campo che poi sembra davvero richiedere un nuovo termine un nuovo concetto per dar conto dei dati raccolti ma è la raccolta dei dati che mi sembra molto interessante quanto al modo di lavorare Gigi ha fatto leggere ha letto e ha fatto vedere un brano diciamo comico io avevo preparato un brano un po' meno comico e se volete se vuoi Guido se già adesso l'ora lo possiamo vedere insieme perché do un saggio di un altro libro molto bello di la branca a mio avviso i più bei libri di la branca sono neoproletariato e il piccolo isolazionista il piccolo isolazionista che esce la memoria stasera non va ma dovrebbe essere del 2007 cioè quando la branca ha 45 anni è una sorta di autobiografia fatta in maniera molto strana chi l'ha vista sa che è fatta di tanti piccoli capitoli nei quali la branca mescola autobiografia riflessione su alcune canzoni pop che gli sono piaciute è un viaggio sulla tangenziale milanese di notte e a un certo punto c'è questo brano molto breve come vedete che vi leggo per darvi un saggio per chi non lo ricordo o chi non l'ha mai letto di una branca così meno fescenino di quello che abbiamo appena letto e che però mette insieme alcune caratteristiche che mi sembrano tipiche da branchiane e molto apprezzabili allora mi è sempre rimasto impresso un racconto di Arthur Clarke che si chiama I nove miliardi di nomi di Dio in cui alcuni studiosi portano un computer in un monastero tibetano dove da secoli si ricercano tutti i nomi di Dio la fine della ricerca dovrebbe coincidere con la fine del mondo così dopo che grazie al computer i nomi sono stati trovati senza difficoltà gli studiosi tornando a valle vedono le spegnersi nel cielo l'atteggiamento che avevo verso i testi dei grandi classici della disco music compresi i recitativi introduttivi di Cvv1 e Cvv2 sono le sigle della Cerrone Werkeforzverzignis Heinz cioè la branca cita Bach questo è il catalogo delle opere di Bach però invece di Bach c'è Cerrone il grande autore di disco music di quegli anni cioè del catalogo Cerrone era da molto tibetano intento a ricercare tutti i nomi di Dio perché la branca non conosceva l'inglese la glutinante pronuncia della lingua inglese unita alla presenza di termini blandamente derogative e corruzioni grammaticali che nessuna professoressa sarebbe mai permessa di insegnare alle medie non facevano che complicare la ricerca era un procedimento inverso quello seguito dagli studiosi di ebraico e dalla parola intera risalgono alle impronunciabili radice tri o quadriconsonantiche risuonando per decine di volte un certo passaggio di Don't leave me this way nella versione di Thelma Houston naturalmente non in quella più adulta di Howl Melvin and the Blue Notes mi era quasi impossibile risalire dal fonema out of control emesso come richiamo di una scimmia urlatrice all'esatta grafia di out of control stacco quando dopo molti anni riascoltando gli oggetti di quella sudata indagine glottologica scoprivo di poter comprendere tutto quanto veniva detto comprese le battute dei misteriore recitativi iniziali di 7v1 e 7v2 evitavo ogni volta di guardare il cielo per tema di vedere le stelle spegnersi a me il piccolo direzionista commuove in generale ma in particolare questa pagina mi sembra molto bella per la costruzione un ricordo culturale e poi un ricordo personale e poi una bella sintesi finale che lega insieme in maniera non dico particolarmente originale ma molto intelligente questi due momenti e poi serpeggiante in questo paragrafo ma in generale in tutto il libro l'idea che tra la cultura popolare che gira la musica che gira intorno e la vita dell'individuo che l'ascolta ci sia un sotterraneo rapporto di cui non sempre si riesce a illuminare la natura ma che a volte si riesce a afferrare la banca ci riesce per esempio con i craftwerk con autobahn dei craftwerk che gli piace molto così come piace ho scoperto a Wellbeck cioè è un pezzo che piace particolarmente agli amanti della solitudine un po' reazionari ecco questo doppio registro cioè la bella qualità della pagina dal punto di vista stilistico sia nell'invenzione sia nell'esecuzione materiale nella scrittura proprio e poi questa sorta di non dirò mistica ma si può dire insomma questa idea che ci sia qualcosa che lega sotterraneamente il destino individuale ai prodotti dell'arte che circondano non individuo mi piace e mi commuove molto e questo è La Branca serio Il piccolo delazionista è un libro tragico in realtà perché La Branca aveva entrambi i registri sia quello del satirista questo poi era La Branca in sostanza per il 90% delle cose che scriveva sia però anche il memorialista colto e serio e capace di riflettere anche amaramente e anche molto seriamente sulle cose importanti della vita Grazie Sì questa osservazione veramente quasi paraprustiana cioè sembra Proust che rievoca i i i i i i i romanzi infantili che leggeva peraltro a corredire al cesso nel primo volume della Recherche ci fa appunto ci fa pensare a questo cioè che gran parte della nostra infanzia della nostra adolescenza come La Branca ha colto benissimo è stata avvolta da cultura pop che è allo stesso tempo carica di memoria carica di memoria che poi è rivisitata in una prospettiva adulta e ci fa capire anche quanto quella cultura pop fosse potenzialmente a volte spesso degradata e allo stesso tempo di tempo perduto del senso che la nostra vita è stata quella ed è stata cresciuta con quelle cose e quelle cose non erano solo degrado erano anche il primo avvicinamento al mondo a se stessi qualunque cosa se stessi voglia dire questo nelle pagine serie di La Branca alleggia sempre ed è anche quello che gli impedisce sempre di prendere in giro e basta i prodotti pop c'è anche molto senso io credo della tragedia della cultura cioè che non c'è differenza di classe più profonda di quella che passa attraverso la cultura il gusto che non si ha il discernimento che si deve acquisire il senso della misura perché se possiamo diventare ricchi all'improvviso non possiamo diventare colti o di buon gusto all'improvviso questo richiede sforzo fatica e spesso attraversa le generazioni ed è una tragedia la branca aveva molto chiaro il senso di questa tragedia e non prendeva mai in giro e basta coloro su cui esercitava la propria analisi c'è sempre una forma di pietà quasi creaturale nei confronti di queste persone che è anche il suo tratto commovente in molti casi volevo chiedere a Gigi se trovava anche lui questo aspetto in la branca e se forse questo è anche la chiave della serietà con cui la branca si applica al pop senza alla fine atteggiamenti snobistici che altrove sono la norma nomincio con dire qualcosa chiamato in causa da Claudio sulla questione della nomenclatura perché secondo me la questione dell'efficacia della nomenclatura di la branca e se ne può discutere poi magari posso dire la mia però è meno elevante rispetto alla capacità di la branca di creare da sé le proprie categorie cioè la branca creava una nomenclatura originale delle formule sue alcune delle quali sono anche rimaste e non tutte le più belle sono rimaste perché aveva questa autonomia questa assenza di pregiudizio e questa assenza di gregarietà intellettuale che gli permetteva di creare da sé le proprie categorie osservando gli oggetti estetici di cui si occupava e questa è un'altra differenza tra la branca e la cultura italiana postmoderna insomma negli ultimi decenni perché è una cultura di solito piuttosto gregaria soprattutto poi la nostra quella della della letteratura della storia della letteratura e della critica letteraria è molto gregaria prima Guido parlava sostanzialmente di capitale simbolico mi ha fatto venire in mente un episodio collegato a questa questione delle categorie dell'autonomia di la branca della capacità di creare da sé le proprie categorie un episodio citato nel libro di Claudio che non conoscevo un episodio raccontato da Manzoli per cui a un certo punto lui dice Manzoli una volta ho regalato alla branca la distinzione di Bourdieu ma non credo l'ho mai letto e ha fatto benissimo conclude intelligentemente Manzoli ora la distinzione è un libro bellissimo io sono contento di averlo letto però questo episodio è significativo secondo me perché parla soprattutto dell'importanza di non ripetere le cose scritte dalle autorità fare critica sociale del gusto come faceva non solo Bourdieu ma anche la branca e la branca senza Bourdieu l'importanza non tanto di non leggerlo perché penso che vada letto io lo leggo mi piace ma l'importanza di leggerlo e poi dimenticarselo entro certi limiti e invece noi noi voglio dire noi non la branca siamo sommersi da queste tesi saggi articoli che non fanno che ripetere non tanto Bourdieu e quanto no i nomi più alla moda soprattutto da teori no Foucault Agamben eccetera in una totale assenza di creatività anche solo di immaginazione e invece in una martellante gregarietà per cui le formule sono quelle create dagli altri e noi le dobbiamo applicare io penso che invece la branca anche quando sbaglia e a volte naturalmente sbaglia lo fa da solo non è mai gregario e questo secondo me è un'altra cosa viva un altro modello che secondo me la branca ci offre perché io personalmente non ho mai conosciuto un critico o uno storico della letteratura o dell'estetica in generale che fosse gregario ora la branca produceva nomenclatura originale e categorie nuove perché partiva direttamente dagli oggetti senza troppe mediazioni ora è vero sì sono d'accordo con Claudio alcune alcune di queste etichette formule non sono un granché alcune sono molto belle a quelle che ha citato Claudio aggiungerei una che per me è specialmente brillante che è quella di c'è in cialtro un esco quella di culturalizzazione istantanea che per esempio ecco questo è un tipo di formula di categoria che si può usare per esempio nella narrativa italiana circostante spiega alcuni fenomeni spiega alcuni tratti dei personaggi di molta narrativa italiana contemporanea la culturalizzazione istantanea Labranca ne parla a proposito di Veltroni in realtà in c'altro e poi ha messo anche il concetto labranchiano di neoproletariato mi piace il libro in generale ma mi piace molto la categoria di neoproletariato e trovo che una delle pagine più belle di Labranca è quella in cui lui descrive questo incontro che lui fa nell'ipermercato con la coppia di neoproletari non so se se ve la ricordate non so se vale la pena leggerlo rapidamente insomma in maniera molto molto sintetica il dio narrante di neoproletariato è tra gli scaffali del supermercato e vede una giovane coppia di un bambino sono vestiti in maniera dimessa al limite dell'indigenza lui con una tuta di acetato verde e azzurra spingeva il carrello a testa bassa il bimbo giocava senza un sorriso nel carrello proprio sul fondo e quello non era come i carrelli di supermercati di russo non aveva l'apposito sedile per bambini lei con un maglioncino rosso di paella sceglieva gravemente tra i prodotti quelli di meno prezzo li comparava li studiava ne leggeva a peso e data di scadenza e poi li deponeva nel cesto allora il narratore immagina la vita di questa coppia un solo stipendio dopo la nascita di un bambino o ancora due piccolo lasciato alle cure di una suocera impaziente vedevo dice il narratore vedevo l'alloggio popolare la dispensa piena di quei prodotti sanome sul mobile libreria vuoto di volumi un televisore a colori regalo di nozze che in ogni momento comitava immagine di jingle prodotti di marca e di prestigio quindi li segue un pietosito da questa immagine in coda la cassa vorrebbe addirittura pagare lui la spesa di questa coppia il narratore alla fine non ha il coraggio per tutto il giorno dice aveva riflettuto sulla loro modestia sul loro vivere parco poi esce continua a seguire la coppia esce dall'ipermercato e all'uscita cosa vede raggiunsi l'uscita e quale stupore mi lasciò basito vedendo che lui il dimesso marito lasciato il bambino nelle braccia della moglie stava aprendo il baule di una nuova Audi A4 Avant motore a ciclo 8 e 4 cilindri in linea 5 valvoli per cilindro due alberi a camma in testa turbo compressori a gas di scarico con intercooler velocità massima 219 km all'ora accelerazione da 0 a 109 secondi e allora la reazione sozzi bastardi neoproletari del cazzo coppia di incivili ignoranti se tra l'offerta immensa merceologica del nostro tempo neoproletario avete scelto con cura i prodotti più marci e meno cari non era per bisogno parsimonia ma per pagare la rata mensile della cilindrata che esibite con orgoglio tra i vicini più miserabili di voi e questo passo l'ho letto anche perché risponde credo un po' a quello che faccio il guido cioè in realtà ci sono ci sono tutte e due queste cose sono due sentimenti forti io aggiungerei anche sono due sentimenti nobili c'è molta rabbia molto rancore per come sono andate le cose per il mondo per come va la storia e per come sta andando il popolo nel passaggio da popolo a non proletariato ed è non è vista di un osservatore esterno perché la branca è nata e vissuta a pantigliate padre gommista madre casalinga eccetera non è una roba che non è una roba che osserva da scienziato sociale e basta quindi c'è molta molta di questa rabbia di questa rancura di questa aggressività che probabilmente è nella vita della branca da quello che sappiamo da quello che leggiamo nel libro di Claudio e poi c'è però moltissima anche la pietà la pietà e la tragicità io direi anche di alcune pagine di la branca e pietà per gli altri ma anche pietà di sé mi sembra e io credo che l'oscillazione fra questi due sentimenti e in generale la sua capacità di non essere mediocre mai di far ridere e di far piangere potremmo dire cioè di essere molto abile e molto divertente ma anche di poter toccare quando vuole delle corte di violenza e di dolore ecco io credo che questa sua oscillazione sia una delle cose più belle di la branca e una delle cose che me lo fa più amare grazie è arrivato il momento di per chiedere al pubblico se ha delle domande da porre o usando lo chat o chiedendo la parola è arrivata una attraverso YouTube che giro a Claudio Claudio capirà subito perché questa domanda che poi non è una domanda l'osservazione dice la branca ha funzionato per lo stesso motivo per il quale hanno funzionato Elio e le storie tese che ne pensi Claudio? ma no no direi di no credo che l'osservazione prenda un segmento un triangolino un franco bollo dell'opera di la branca e lo identifichi col tutto ma in realtà la branca è un autore molto più più sfaccettato di quanto possa dire il paragone con Elio e le storie tese c'è certamente lo dico nel libro e non è non è difficile dirlo una un'analogia generazionale Elio e le storie tese sono persone nate anche loro nei primissimi anni sessanta sessantuno sessantadue sessantadue sessantatare sessantaquattro Rocco Tannica credo sia del sessantaquattro e quindi hanno negli occhi più o meno la stessa tipo di realtà che aveva la branca e ci sono delle analogie anche sulla della confezione di alcuni testi nel libro ne parlo un pochino accenno un po' cioè tutta l'enorme quantità di oggetti che sono entrati nella nostra vita di oggetti commerciali di marchi che sono entrati nella nostra vita a partire da quegli anni fino ad oggi sono presenti per la prima volta in effetti nei testi sia di la branca sia di Elio la storia di tese e c'è anche in effetti tra la branca e per esempio Rocco Tannica che è quello che ha come dire una scrittura più continua e anche più di qualità del gruppo l'anno scorso è uscita una sua autobiografia piuttosto bella è facile trovare dei punti di contatto nella chiave comica usate dai due sia da Rocco Tannica e dalla branca però direi che come dire l'universo espressivo artistico l'idea di vita di la branca è molto più complessa di quella di Elio la storia di tese che non sottovaluto affatto ne ho scritto anche con ammirazione ma sono due cose un po' diverse cioè quello che in Elio la storia di tese è quasi tutto e la branca è un frammento importante interessante e in realtà molto serio molto bello anche ma rimane un frammento c'è un'altra domanda di Francesco Pecoraro le tre F concetto fondamentale per leggere il presente punto interrogativo le tre F sono fiction fashion e fitness e sono le tre caratteristiche del neoproletariato secondo la branca rispondete entrambi Gigi e poi Claudio naturalmente sì secondo me sì insomma la 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 descrizione del neoproletariato nel libro di la branca è giusta insomma è sostanzialmente perfetta virtualmente perfetta e soprattutto è un libro che non è chiato secondo me e le tre F lo dimostrano sempre più fiction sempre più fitness forse meno fashion forse 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 fashion è il concetto che si è deformato di più ma forse sono sono deformazioni di superficie nella sostanza nella sostanza non è cambiata credo che in realtà poi il più importante dei tre sia forse proprio fiction e credo che la cosa che più facesse soffrire la branca fosse proprio la fictionalizzazione del popolo o se preferite del proletariato tradizionale né farsi neoproletariato la quantità di fiction assorbita come radiazioni dal neoproletario e e questo credo andasse insieme con quello che è un odio molto forte per i simulatori credo che la branca identificasse il popolo con una forma di autentità una cosa romantica ma umanamente commovente e credo che invece il suo distacco dal neoproletariato fosse molto anche legato a questa componente simulatrice emulativa epigonale e fictional neoproletario per come la descrive anche nel libro se poi ci spostiamo dal neoproletariato ancora al pop andando indietro un po' retrocedendo nella cronologia di la propria di la branca vediamo che quando appunto si occupa di trash di pop il suo disprezzo più grande è sempre rivolto ai simulatori e spesso i simulatori stanno a livello intermedio della cultura di massa la branca tende ad essere indulgente verso il mascarone e tende ad apprezzare l'aibro diciamo la cultura a grande ambizione formale mentre spesso è molto violento nei confronti del mid-cult perché perché il mid-cult è per lui e direi anche oggettivamente la sacca in cui in genere si raccoglie la maggior quantità di simulazione di polline culturale di polline estetico ecco credo che la branca fosse particolarmente insofferente a questo tipo di polline fosse particolarmente scocciato dall'artista simulatore mentre potesse commuoverlo l'artista trash cioè l'artista che non si riesce a emulare in maniera riuscita il suo modello quando mi capita di vedere non so Achille Lauro oggi per esempio a volte mi chiedo che cosa ne avrebbe pensato la branca perché ho l'impressione che lui avrebbe potuto darci qualche giudizio e qualche analisi interessante di questo tipo di artista che ho noto che a molti piace e che io ho l'impressione che sia un po' un simulatore e che ho l'impressione che la branca avrebbe potuto decostruire come faceva lui Claudio sulle tre Sì fashion fiction e fitness in realtà fitness ha un ruolo abbastanza secondario nelle cose che scrive la branca e la sua vita comincia ad avere un ruolo negli ultimi anni quando cerca di rimettersi in forma la fiction è effettivamente la sua ossessione cioè l'idea che il proletariato le persone normali la gente comune che al mezzo alla quale lui viveva vive una vita finta e cioè che i bisogni materiali di un tempo siano stati soppiantati da bisogni immaginari da cui soddisfazione non ha nessun interesse reale per la vita di queste persone e i simulatori sono appunto la bestia nera di la branca che a tutti i livelli lui trova disprezzabile censurabile sulla fashion ci sarebbe da dire qualcosa di più perché perché la branca è un fashion victim in realtà cioè un uomo era un uomo che aveva una specie di coazione all'acquisto di oggetti di moda e aveva un morboso interesse per i vestiti per la moda una delle sue foto più belle famose che ho messo anche nel libro lo ritrae non ce l'abbiamo a disposizione credo lo ritrae nel bagno della villa di Versace durante una cena una specie di festa alla quale per vari motivi era stato invitato e sul fashion sulla moda penso avesse delle cose interessanti da dire qualcuno l'ha anche detto quello che manca forse in queste parole chiave è l'altro aspetto più serio della simulazione cioè l'arte una delle cose più interessanti su cui forse farebbe la pena di richiamare l'attenzione e su cui si potrebbe anche tornare con una repubblicazione è quello che la branca dice sull'arte contemporanea e sul design contemporaneo per esempio vedevo che prima qualcuno citava nella chat Astrakhan che è un libro che parla appunto del gusto borghese o latamente borghese in fatto di arredamento e di orpelli una delle linee più interessanti dell'opera di la branca riguarda proprio gli oggetti artistici sin dall'inizio e poi direi con maggiore profondità e interesse negli anni successivi la branca riflette sull'arte l'ultimo libro Vagina Roda è un libro che parla di arte contemporanea non è un gran libro è un libro che prende pezzi di altri libri precedenti e risalda insieme però ci sono delle pagine molto belle quindi a quelle tre F che definiscono un po' la vita dei neoproletari forse mancherebbe una A che è quella dell'arte che è uno dei temi più identitari più interessanti e anche più originali nel modo in cui li tratta che la branca tocca nei suoi libri ma questo soltanto Mentre tu parlavi Emanuele Carbet ha proiettato la foto di cui citavi ha proiettato a schermo sono arrivate molte domande giro a Claudio credo quella di Maria Luisa Roscino come si inquadra in una produzione di Tommaso Labranco un volume come Astrakhan ci sono affinità con Piero Chiara c'è un'altra faccio formulo subito un'altra domanda per rendere più veloce la replica di Davide di Falco c'è qualcuno che ha raccolto l'eredità di Labranca o Labranca rimane come intellettuale un unico ma è ancora è nell'area la ristampa delle sue opere alcune delle quali da tempo esaurite e fuori commercio prima Claudio poi Gigi dunque no Astrakhan non è fa pensare al capotto di Astrakhan ma in realtà non c'entra con Chiara Astrakhan è un libro appunto in cui si parla di una di una zia di una vecchia signora defunta e del suo mondo borghese che Labranca oppone invece al gusto più triviale dei giovani milanesi da fuori salone e quindi è un libro il cui interesse sta soprattutto nelle osservazioni che Labranca fa sugli oggetti e c'è un saggio precedente che è disperso tra le mille cose che lui ha messo in rete che si chiama Zia Design che è la riscrittura di un altro saggio precedente di cui non ricordo il titolo ma insomma gli oggetti interessavano molto Labranca e il tema del libro è un po' questo l'oggettistica c'è un debole nesso narrativo tra le varie scene ma quello che interessano è proprio l'arredamento delle case e gli oggetti che gli esseri umani borghesi o proletari o finto proletari hanno davanti agli occhi però è vero che Labranca amava Piero Chiara Piero Chiara era uno scrittore che lui amava moltissimo aveva dei gusti letterari curiosi perché non molto in linea con quel modo in cui scriveva gli piacevano dei narratori puri che piaceva Chiara gli piacevano fra i contemporanei quelli che riuscivano a raccontare una storia come Veronesi gli piaceva City per altre ragioni gli piaceva Isherwood Chiara però era uno degli autori che gli piacevano di più in effetti un po' perché era il suo contrario forse tanto solare e aperto al mondo quando lui era invece umbratile e pessimista e chiuso quanto alle opere quanto agli eredi ma è sempre difficile dire è sempre difficile insegnare una linea un autore fra l'altro così poco visibile ai suoi tempi ancora adesso io credo che molte delle persone che oggi hanno 40, 50 anni 60 anni hanno letto Labranca e forse per alcune cose ne sono stati influenzati però non cercherei il labranchismo insomma negli scrittori contemporanei io faccio un capitoletto che si intitola Effetto Labranca in cui cerco di vedere come alcuni dei temi dei punti di vista che lui ha portato a galla ritornino in giornalisti scrittori saggisti i quali forse non hanno nemmeno letto Labranca però quello che mi sembra importante in Labranca non è tanto di quello di aver fatto una scuola ma di aver aperto delle possibilità cioè mi sembra che abbia un po' allargato l'orizzonte del campo del dicibile del criticabile cioè ha introdotto dei nuovi oggetti davanti ai nostri occhi ha messo dei nuovi oggetti e questo ha lasciato un segno sicuramente quindi oggi non parlerei di eredi però sono certamente sono sicuro che Labranca apprezzerebbe molti alcuni di coloro che scrivono libri o articoli di giornale oggi insomma e nel libro faccio un po' di nomi non sono un particolarmente esperto quindi questi nomi io li faccio perché seguo queste persone quando scrivono ma sicuramente è un catalogo molto facilmente ampliabile insomma oggi sul pop si scrive meglio e di più non so se c'è stato un effetto di Labranca ma certamente la porta lui l'ha aperta insomma ma anche certe descrizioni di città certo grigiore una certa malinconia un po' compiaciuta che c'è nella narrativa di alcuni scrittori contemporanei ha qualche a qualche nesso con quello che lui scriveva della Milano grigia e nebbiosa e fredda che gli piaceva tanto e poi il satirista questo sì lo scrittore satirico qualche segno l'ha lasciato ora la satira è un linguaggio universale nel senso che gli ingredienti sono quelli che possono essere mescolati in proporzioni differenti ma quelli rimangono ma certamente mi capita alle volte di leggere un brano di qualche giornalista o scrittore satirico e ricordarmi a volte un po' di Flaiano a volte un po' di Labranca nel libro faccio il nome di Guido Bitiello che in un pari di articoli riprende proprio dei temi labranchiani cioè l'ironia contro gli intellettuali citazionisti per esempio oppure l'analisi dei film in cui si dimentica la trama e si guardano gli oggetti che nel film vengono valorizzati dalla macchina da presa oppure per quanto riguarda la critica del pop ogni giornale oggi ha un bravo giornalista che fa critica del pop bravo o meno bravo nel libro faccio qualche nome la Soncini per esempio è sicuramente brava su domani c'è un ottimo autore televisivo che si chiama Fabio Vassallo che queste cose le sa dire ma ce ne sono tante sicuramente per quanto riguarda le opere in realtà devo dire l'obiettivo uno degli obiettivi iniziali del libro era quello di smuovere un po' le acque di rimettere un po' la branca sulla mappa un po' ci sono riuscito perché qualche copia l'abbiamo venduta e siamo qui stasera c'è un po' di curiosità io ho fatto il giro delle sette chiese come si fa in questi casi ho telefonato ai miei amici ai colleghi alle persone che lavorano in editoria tutti molto interessati qualcuno dei più giovani editor non l'avevano mai sentito parlare di la branca perché è un autore di cui da 10-15 anni si parla pochissimo gli altri un po' di più e ho qualche promessa che però per adesso è solo una promessa io volentieri farei la curatela aggiungendo una parola all'inizio della ristampa l'idea è quella di fare una silloge delle cose migliori lì si può vedere quante pagine sono a disposizione e cosa metterci ma certamente Andy Warhol certamente Neoproletariato certamente il piccolo isolazionista qualche articolo sparso e poco visibile e qualche critica televisiva di quello che faceva su film tv forse anche il progetto Elvira cioè il libro che lui dedica al vedovo di Risi con Sode che è molto bello è molto originale però ecco per adesso ho solo delle promesse bisogna trovare un mercato un pubblico e non è così facile insomma io però ci provo e continuo a battere a bussare Gigi per la narratività per la narratività tendeva ad apprezzarla poco negli altri scrittori con qualche eccezione che Claudio ha detto e soprattutto tendeva a praticarla poco lui i suoi libri sono poco narrativi i suoi saggi narrativi sono pochi narrativi e molto molto diciamo introspettivi saggistici ma insomma con una cornice di storytelling molto esigua ecco e forse c'è un nesso tra queste due diverse sfumature del concetto di fiction che però insomma credo che gli creassero problemi entrambi poi se possiamo vedere la fotografia che abbiamo visto prima quella di Labranca a proposito di fashion invece dell'altra F ecco semplicemente voglio che si sappia che questa foto è stata scattata da Labranca nel bagno di Donatella Versace nel 2004 credo che sia un elemento contestuale importante per valorizzare questa questa immagine in generale credo che Labranca questo fa parte dell'aspetto più malinconico e della pietra forse anche del lato tragico di Labranca credo che fosse molto sensibile alla bellezza poi in realtà e quindi al gusto che dà inseguirla e anche sfregiarla in qualche modo e poi terza cosa grazie mamana dunque diceva diceva giustamente Claudio parlando di Braghi Naroda il libro un po' raccogliticcio con alcune cose belle altre meno belle in realtà io ho l'impressione che questo sia vero un po' per tutti i libri di Labranca cioè l'impressione che Labranca e questa è una delle cose che forse è uno dei punti deboli della sua opera dal mio punto di vista credo che Labranca non abbia scritto un libro perfetto mai anche quelli molto belli come il piccolo isolazionista mancano un po' di organicità oppure si fermano fino a un certo punto io personalmente l'ho valorizzato molto il piccolo isolazionista ne ho parlato parecchio nella lettera circostante perché secondo me è uno dei libri belli di narrativa italiana degli ultimi decenni però ho l'impressione che Labranca in realtà non abbia mai creato non so se perché non voleva o perché non sapeva creare un prodotto un'opera non un prodotto un'opera organica in senso classico bella in senso classico ho l'impressione che lui funzionasse come autore più come funzionano di solito i propri i prodotti di consumo come funzionano di solito i prodotti pop cioè in maniera disorganica sono un genere no un film di genere un romanzo di genere spesso è bello a frammenti manca proprio di organicità manca dell'organicità del classico della carenza dell'organicità del classico ho l'impressione che anche come autore in questo senso Labranca somigliasse alle opere di cui ci occupava e fosse molto discontinuo in tutti i suoi libri secondo me ci sono cose molto belle e cose meno interessanti ed è una costante questa realtà questo per dire che secondo me paradossalmente ma fino a un certo punto Labranca è a mio avviso un autore d'opere complete come diceva Fortini di Pasolini cioè è un autore e nonostante le differenze secondo me ci sono anche delle analogie in realtà tra Labranca e Pasolini fermarestando l'antipatia di Labranca e Pasolini però per esempio in questo sono simili secondo me sono autori da opere complete cioè autori che non si sono mai come dire incarnati in un'opera organica perfetta scintillante ma si sono spesi diciamo in maniera frammentaria e per cui io credo che sarebbe importante ricordare per intero il percorso di Labranca e apprezzare quel che di buono c'è in tutti i suoi libri perché in tutti i suoi libri c'è qualcosa di buono e in questo senso speriamo che l'editoria italiana batta un colpo lui sull'editoria italiana e su questo chiudo una volta insomma ho rilasciato questa dichiarazione notevole la crisi dell'editoria italiana mi dispiace soprattutto perché rischia di lasciare a casa molte persone che rischiano di perdere il lavoro non penserai certo rivolgendosi al giornalista che gli ha fatto questa domanda che mi dispiaccia se 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 pubblicano libri di cuochi o di o di calciatori no no è un'industria l'industria deve fatturare se poi c'è qualcuno c'è qualche parrucchiere che è un barbiere che non pubblica il suo libro di poesie non è così importante quindi insomma aveva anche una visione come dire industriale dell'editoria non so se le opere competenti alla banca possono essere un appunto interessante dal punto di vista commerciale però penso che sia un autore che va letto tutto e per tutto intendo anche e questa sarebbe un'operazione ancora più difficile forse per tutto intendo anche nelle sue tracce in rete per esempio che sono numerose e che sono forse irreperibili ormai forse sono sempre perdute non lo so però è un autore che non ha soltanto scritto su carta è un autore che è stato presente anche in maniera performativa nelle feste che organizzava negli appuntamenti che organizzava nei siti che aveva lanciato e nelle varie iniziative alcune Claudio le ha ricordate le fanzine insomma a cui ha dato origine quindi un autore e anche questa è un'analogia con Pasolini paradossale forse un autore con una figuralità e una capacità di disseminazione che secondo me andrebbe recuperata le domande che vi leggo Antonio Ranalli vorrei ricordare anche l'attività di Labranca come autore di libri musicali spesso questi testi sono stati sottovalutati ma sono scritti con grande competenza poi lo pseudonimo Proto Ciccius un libro davvero stimolante un tributo davvero stimolante alla figura di Labranca forse l'unica cosa che è rimasta un po' in ombra nella conversazione è la sua produzione narrativa to court penso soprattutto a 78 Giulio Azzolini il neoproletariato è la classe sfruttata ma non antagonista subalterna oggi dopo dieci anni di aumento delle diseguaglianze economiche questa categoria rischia di oscurare i germi di rabbia e di conflitto punto interrogativo queste sono le osservazioni le domande che sono arrivate Claudio puoi rispondere ad alcune o tutte come preferisci no certamente sui libri musicali ne parlo diffusamente perché sono molto importanti Labranca a un certo punto vive soprattutto di questi libri musicali nel senso che sono libri che vengono ben pagati quando muore Michael Jackson in una settimana Sperlinger Kupfer se non ricordo male gli allestisce un piccolo gruppo di collaboratori che gli passano materiale lui scrive in una settimana un libro che poi venderà decine di miliardi di copie e cioè la biografia di Michael Jackson che va in libreria una settimana dopo la sua morte qualcosa del genere per Taricone non parliamo di musica ma sempre di show business ed è vero molto vero che almeno un paio di questi libri sono anche letterariamente belli il libro su zero è molto bello cioè ecco una delle cose che sarebbe da ristampare sono alcune pagine del libro di zero su zero perché lì la branca dice alcune cose sul pop degli anni 70 e 80 che non dice altrove e quindi andrebbe letto e valorizzato io cerco di farlo un po' nel mio libro ma certamente la voce vera la voce viva di la branca sarebbe più interessante da sentire mentre gli ultimissimi libri quelli che alcuni scritti anche in compagnia di Luca Rossi sono libri che lui scriveva fondamentalmente per i soldi hanno biografie di piccoli grandi star che hanno un respiro molto meno ampio anche perché lì la consegna era molto chiara bisogna parlare di skin e non fare un racconto sulla cultura pop degli ultimi anni quindi occorreva aderire molto di più all'oggetto però è molto vero gli scritti sei o sette che sono un grande sforzo e anche a volte un bel risultato così come faccio una parentesi una delle cose che dovrebbero emergere in una repubblicazione sono le cose che ha fatto negli ultimi anni online ha fatto delle riviste online tra cui Osso Book che è una rivista su Milano e la Brancotech che è una rivista di fanzine fatta tutta da lui in cui ci sono delle cose eccellenti quelle sì che sarebbero da repubblicare speriamo di poterlo fare per quanto riguarda la produzione narrativa sì non era appunto un autore evocato alla narratività o a cui interessassero poi troppo i personaggi che creava usava i personaggi come dei simboli insomma degli attanti che servivano per dire delle cose non per mostrarle e quindi l'ascoltatore citava 7808 che è un romano è un racconto romanzo che ha una sua linea narrativa anche divertente però abbastanza esile con personaggi è così più che rappresentati satirizzati l'ascoltatore si ricorderà una figlia Emo erano gli anni degli Emo con il compagno Emo che va in Inghilterra eccetera eccetera però devo dire la linea narrativa va in secondo piano e in primo piano stanno le osservazioni sul passaggio storico tra l'Italia degli anni del terrorismo nel 1970 e poi l'Italia del riflusso e l'Italia nella quale si trova libera il personaggio principale cioè nel 2008 il protagonista del libro quindi non credo siano libri forse sarebbero gli ultimi libri da ristampare non credo siano quelli in cui se non appunto in alcune pagine viene fuori il medio della branca mentre io sono molto legato ai duci cioè al libro sugli immigrati romeni la famiglia di immigrati romeni che poi era una famiglia che la branca conosceva che era una famiglia molto simile a quella che lui aveva come vicino di casa e che è un libro pieno di intelligenza e di pietà per queste persone di vera amicizia per queste persone i libri sugli immigrati sono spesso o vogliono colpire o vogliono suscitare empatia e pietà questo libro non è una cosa o nell'altra racconta in maniera molto civile e affettuosa degli esseri umani che hanno i loro difetti e le loro virtù forse più difetti che virtù in questo caso ma lo fa con grandissimo garbo e grande e grande tenerezza ed è un aspetto di la branca una specie della branca tra i 40 e i 50 anni maturo e un po' fallimentare un po' sul via del tramonto che mi piace moltissimo quanto al neoproletariato sì ma senz'altro è un libro da leggere in quella chiave nella chiave di una classe sociale ormai incapace di progredire perché non ci sono più possibilità di farlo ma anche incapace di lottare perché quell'embrionare tale capacità di lottare che esisteva prima quando i bisogni erano materiali si poteva unire per raggiungerli è tramontata perché i bisogni sono diventati simbolici e nel regno del simbolico non si cresce insieme non ci si salva insieme ci si salva da soli e questo fa sì che qualsiasi discorso sul popolo unito sul proletariato unito debba tramontare nel mondo abitato dal neoproletariato ci si salva da soli simbolicamente attraverso i beni simbolici non attraverso i beni materiali e quindi sì sono d'accordo su quello che diceva l'ascoltatore direi che è anche una delle ragioni di interesse di quel libro che è molto più politico forse di quanto sulle prime possa sembrare il libro fa ridere naturalmente la scena che citava Gigi del supermercato fa molto ridere però tra le righe c'è una riflessione amara molto sobria che però è anche molto chiara su quello che non va e quello che bisognerebbe cambiare sì beh insomma su quest'ultima domanda sul neoproletariato rischia di oscurare i germi di rabbia e conflitto rabbia credo che il neoproletariato di rabbia ne abbia tanta conflittualità poca perché beh insomma non ha da perdere che le sue catene ha da perdere la sua Audi A4 Avant e finché c'è da perdere l'Audi A4 Avant credo che la conflittualità sia ridotta e credo che questa sia una cosa che faceva impazzire la Branca che aveva una Fiat Idea e che aveva comprato credo proprio perché era una macchina italiana utilitaria senza prese voleva aiutare l'economia italiana ricordo di avergli sentito dire qualcosa del genere aggiungerei tra l'altro a proposito che anche le interviste di Branca sono molto belle sia nel senso delle interviste che lui faceva ad artisti scrittori anche gente comune insomma sia nel senso delle interviste che affacciano a lui mi sembra che ci sia molto materiale interessante nelle interviste per esempio mi ricordo un libretto Rio mi pare un acronimo per la rivista originale credo fosse ma in copertina c'era Rio dei Duran Duran ecco quello per esempio è un libro che ha delle cose belle e in generale lui non era molto bravo sia come intervistato sia come intervistato poi c'è una domanda di Enrico Facchini che legame c'è tra la genialità di La Branca e la sua morte precoce? Claudio e Gigi no sui legami tra la genialità e la morte direi nessuno sulla sua morte per cui occorre essere molto rispettosi e non dire troppo insomma forse non dire nulla la morte è stata improvvisa per un infarto certamente non fra la sua genialità e la morte ma fra il modo in cui è vissuto e la morte c'è qualche rapporto nel senso che La Branca muore da solo nel suo appartamento di Pantigliate con una vita che negli ultimi anni era una vita credo molto amareggiata dall'oblio che aveva circolato il suo nome e da una serie di amarezze legati a rapporti professionali e personali che l'avevano molto deluso ora lui era uno molto facile a deludersi non era una persona facile una persona spigolosa e veramente insoddisfatta e egocentrica ma è un fatto me lo confermavano molte delle persone che ho intervistato per fare questo libro che specie negli ultimi anni molti lo hanno lasciato al suo destino e lo hanno aiutato meno di quanto forse potevano e questo sicuramente non ha giovato al suo umore al suo benessere forse se si fosse curato di più se avesse pensato più a se stesso se si avesse avuto vicino più amici affettuosi più successo forse quello che poi voleva alla fine probabilmente non sarebbe morto così oppure avrebbe avuto altre opportune però non posso spingermi fino a fare delle delle ipotesi su come sono tutte le cose certamente non fra la genialità e la morte ma fra il modo appunto umbratile e periferico in cui ha vissuto gli ultimi anni e la sua morte c'è qualche rapporto ma io non ho nessuna idea della quale siano poi non ho nessuna idea della biografia di la branca della vita che faceva al di là di quello che ho letto nel libro di Claudio conosco soltanto l'opera e quindi mi è molto difficile rispondere a una domanda sul rapporto tra la sua morte che per me è abbastanza misteriosa tutto sommato e è la sua genialità però nel libro di Claudio c'è secondo me un paraggio interessante che spiega una delle due cose importanti forse che serve sapere per poter dare una risposta a questa domanda la prima è che la branca non è stato un escluso dal sistema come si dice è stato anche uno che entrava in conflitto con i suoi amici con i suoi alleati e in parte anche con se stesso è stato sicuramente molte testimonianze che ho letto nel libro di Claudio che ho raccolto nel libro di Claudio vado in questa direzione Tommaso Pellizzari che pare sia uno dei suoi amici più uno di quelli che gli è stato vicino fino alla fine insomma Tommaso Pellizzari giornalista scrive questo però leggo è veloce Totti dice che il giocatore più forte con cui ha giocato anzi che ha visto giocare su un campo di calcio è stato Cassano negli ultimi vent'anni Totti vado con tutti pensaci Zidane Del Piero ma per lui Cassano era il più forte di tutti e però è visto che fine ha fatto Cassano in pratica non ha una carriera non la carriera che avrebbe potuto avere comunque neanche un quarto della carriera che avrebbe potuto avere perché era uno che quando arrivava in una squadra nuova driblava i difensori e poi li prendeva per il culo questo è il primo giorno e poi faceva la stessa cosa tutti i giorni sempre finché i compagni andavano dall'allenatore e lo pregavano di toglierglielo dai coglioni Cassano veniva venduto e l'anno dopo ricominciava era il più bravo ma è un po' come se la sua psiche in particolare la sua capacità di relazione non fosse all'altezza del suo segno Tommaso era così questa è una cosa penso che sia realistica coerente con le altre testimonianze sulla branca che ci sono nel libro poi però c'è anche un'altra cosa che secondo me bisogna dire e questo lo si capisce semplicemente leggendo i libri che la branca ha scritto vedendo le cose che la branca ha fatto la branca è stata intelligente sempre cioè non ha accettato di non essere intelligente per essere accettato dai mass media e pochi lo fanno la verità è che molti accettano di essere meno intelligenti per farsi sentire da un maggior numero di persone per farsi capire da un maggior numero di persone per farsi amare da un maggior numero di persone la mia impressione è che la branca questo non l'ha mai fatto e questo forse ha contribuito a rovinargli la vita o a non dargli il successo che avrebbe voluto perché questa è la terza cosa io credo che la branca volesse avere successo come tutti umanamente vogliono avere successo però credo che non abbia mai accettato di pagare il prezzo di essere stupido per avere successo e questa forse è l'ultima lezione che mi sento di indicare che la banca ci offre una lezione dolorosa e una lezione che forse può danneggiare ma pur sempre una lezione grazie un'ultima osservazione e poi ci vediamo verso la conclusione di Francesco Pecoraro che scrive in principio Rabasino mi sa voi ravvisate somiglianze affinità divergenze tra queste due figure la branca apprezzava moltissimo Rabasino non so quanto lo abbia letto estesamente forse nessuno ha mai letto estesamente Rabasino però lui c'è una pagina che non ricordo dove in cui lo elogia in maniera un po' iperbolica il che fa pensare che non l'avesse veramente letto estesamente ma non so il confronto è davvero difficile da fare prendendoli come cronisti del presente forse di quello che succede intorno a loro l'oggetto che volevano avere sotto gli occhi era molto diverso perché ovviamente Rabasino aveva in mente una cronaca del costume borghese dell'intellettualità del suo tempo mentre alla branca sta a cuore tutt'altro sta a cuore la gente comune poletario piccolo borghese la periferia e la cultura di massa cioè quella che Rabasino nemmeno faceva entrare nel suo punto d'osservazione quindi da questo punto di vista sono complementari se vogliamo si possono leggere entrambi dovrei riflettere molto di più per dare una risposta sensata quella mancanza di organicità che diceva Gigi in Rabasino è ancora più marcata evidentemente io sono d'accordo su quello che diceva Gigi sulla mancanza di tenuta dei libri cioè sulla mancanza di struttura sulla debolezza e sul fatto che siano libri diseguali nella loro fattura e bisogna tenere conto del fatto che la branca scriveva moltissimo e pubblicava moltissimo sui giornali e poi rifondeva nei libri e aveva poco tempo e lavorava spesso per i soldi quindi c'è questa ansia che io cerco di far percepire nel libro c'è questa necessità di scrivere tantissimo e di non riflettere molto e il fatto che non aveva interlocutori veri e propri cioè per molto parte della sua vita non ha avuto maestri non ha avuto professori intorno al discorso dell'università che lo guidassero non ha avuto dei consulenti quindi si è fatto tutto quanto molto da solo Arbasino ovviamente aveva una formazione culturale talmente più raffinata che le sue scelte culturali le sue scelte intellettuali artistiche sono molto più avvertite però c'è anche in lui evidentemente l'incapacità o la non volontà probabilmente di creare un'opera organica invece di raccogliere in scritti sparsi che poi possono fondersi insieme osservazioni sparse sul presente sono entrambi molto intelligenti sono eccezionalmente intelligenti nemici del loro tempo in maniera molto diversa non lo so ecco dovrei riflettere meglio su un possibile confronto però i punti di contatto non mi sembrano moltissimi in realtà non lo metterei nella genealogia di Lebranca ma non saprei bene chi mettere nella genealogia di Lebranca se non soprattutto la realtà o qualche scrittore captato un po' a caso negli anni della formazione come Tom Wolf che lui cita spesso o qualcun altro dovrei rifletterci io ho l'impressione innanzitutto che la letteratura non sia la dimensione principale dell'Atlante Cultura di Lebranca fa parte dell'Atlante Cultura di Lebranca ma secondo me non è la sua dimensione principale anche le cose che scrive sugli scrittori sono sempre intelligenti spesso geniali a volte sbagliate mentre per esempio è molto difficile secondo me che Lebranca sbagli un giudizio sulla musica pop per esempio sulla musica pop secondo me è quasi infallibile per quanto riguarda il basino io credo che Valga è la terza volta che uso questo avverbio paradossalmente un po' quello che abbiamo detto per Pasolini cioè secondo me ci sono delle cose molto simili e delle radicali divergenze le cose simili sono penso abbastanza evidenti in realtà il senso della conversazione la capacità di captare alcuni aspetti proprio del linguaggio orale e della vita che attraverso le parole parlate il rifiuto del narrativo di cui abbiamo detto l'amore per arte e cultura senza steccati senza compartimenti stagni sono cose in comune con Arbasini una certa ironia aggiungerei che però in Labranca può prendere una piega tragica a differenza di in Arbasini però credo che siano molto importanti anche le differenze la differenza tra Labranca per dirla sinteticamente mi sembra quella che c'è fra il trash e il camp Arbasina mi sembra soprattutto legato a un gusto del campo mentre sappiamo che Labranca aveva un gusto modo naturalmente con tutte le gerarchie che sappiamo che abbiamo detto ma certamente era attratto più dal trash che dal camp e tra l'altro una delle sue definizioni del trash del camp è che il camp è un trash che ha preso coscienza di sé se non ricordo male un'altra grande differenza con Arbasino è la capacità che ha Labranca e che non ha Arbasino di parlare di sé di parlare voglio dire dei suoi moventi più profondi anche dei suoi dolori e delle sue rancori Arbasino ha una discrezione logorroico quando deve parlare di cultura e di arte è molto difensivo quando deve parlare di sé Labranca era difensivo credo che invece abbia messo molte delle sue trippe sul piatto e in questo somiglia a Pasolini sono tre tipi diversi di intellettuali attratti da pop in modo diverso tre tipi diversi di omosessualità anche tre figure che secondo me devono esserci ben presenti tutte e tre perché tutte e tre hanno qualcosa da dirci ringrazio Claudio Giunta e Gianluigi Simonetti per quello che ci hanno detto stasera è stata una serata molto bella vi ringraziamo vi ringraziamo profondamente diamo appuntamento a coloro che seguono Extrema Razio al prossimo anno avremo un'altra serie di incontri conferenze discussioni dibattiti vi daremo informati attraverso la nostra mailing list e attraverso i social network del dipartimento di filologia e critica di Siena vi ringrazio e dunque vi do appuntamento al 2021 a presto grazie a voi grazie ciao grazie a tutti